Il controverso imprenditore slovacco Marian Kochner è stato accusato dalle autorità di Bratislava di essere il mandante dell'omicidio del giornalista investigativo Jan Kucjak. Il reporter 27enne fu freddato insieme con la compagna nel febbraio del 2018 nella loro abitazione di Velkamaka, cittadina a est della capitale. Kochner è in prigione per frode dall'estate scorsa e il suo nome era già stato accostato all'omicidio Kucjak perché il giornalista, prima di essere ucciso, aveva indagato su presunti casi di evasione fiscale in aziende legate a uomini d'affari slovacchi. Per il diritto a settembre sono state arrestate quattro persone. Sarebbe stata una di queste a parlare di Kochner come del possibile mandante. In un primo momento si era ipotizzato che l'omicidio fosse legato a un'altra indagine di Kucjak sul trasferimento di fondi europei a cittadini italiani residenti in Slovacchia considerati vicini all'Andrangheta.